L'intera comunità di Barga è in apprezzione in queste ore per il vice parroco Don Giovanni Cartoni, 26 anni, protagonista di un terribile incidente avvenuto giovedì sera sulla strada regionale 445 a Fornaci. Don Giovanni era la guida della sua auto, una Fiat Panda, quando per causa in corso di accertamento è finito violentemente contro un garrail. Uno scontro terribile, scattato l'allarme, dato da alcuni passanti, sul posto sono intervenuti un'ambulanza allertata dal 118 e vigili del fuoco di Castelnuovo. Viste le gravi condizioni, i medici ne hanno deciso il trasferimento all'ospedale Cisanello di Pisa, dove Don Giovanni versa in prognosi riservata a causa di alcune fratture e di alcuni problemi ancora da valutare ad una vertebra. Don Giovanni Cartoni si trova a Barga da circa un anno al fianco del proposto Don Stefano Serafini. Il luogo dove è avvenuto l'incidente è stato già teatro di un fuoristrada alcuni anni fa, dove perse la vita un giovane.